A volte le questioni morali o religiose rischiano di inceppare i meccanismi oliati del calcio anche in un campionato come la Premier League. L'attaccante senegalese del Newcastle, Papis Sissé, si era infatti rifiutato di vestire la maglia della squadra, visto che lo sponsor è impegnato in attività non compatibili con la sua fede. Lo sponsor, Wonga, è una dita che offre prestiti personali proibiti dalla religione musulbana. Il 28enne però sembrava pronto a lasciare San James' Park pur di non metterti in contrasto con la sua fede, ma alla fine dopo un incontro col tecnico a Lampardio, un compromesso sembra fattibile. Probabilmente il fatto che i tabloid l'abbiano beccato a giocare d'azzardo in un casino di Newcastle c'è entrato qualcosa, per non parlare poi del fatto che i quattro compagni di squadra musulmani non avessero mai protestato per l'associazione della squadra con lo sponsor. Sissé tornerà ad allenarsi venerdì, cosa che sicuramente aiuterà i Macbys, il cui reparto offensivo e accorto di opzioni da un bel pezzo. Vedremo nei prossimi giorni se la società riuscirà a portare nel Tyneside l'esiliato in casa all'Aston Villa da Rembent o magari il Mercuriare Gomisse dall'Olympique Lyon.